Allora vi faccio un attimo vedere un esercizio veloce per i ragazzi. Allora gambe divaricate, sempre con le bottiglie, raggiungere dal braccio che sta su, esatto, la gamba sinistra, uno e ritorno, due e ritorno, esatto, sempre con le bottiglie e fare serie sempre da 12 in poi. Ma le gambe devono essere tese o piegate? Leggermente flesse, mai tese. Ok. Ok. Con una? Il primo esercizio dei fianchi per le manie dell'amore. Ok. Ok? Quindi farne 12 complete dall'alto e 12 complete dall'altro lato. Va bene. Ok. Bravo. Così? E porta giù. Uno e ritorni su. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Non volevo fare. Sette, non so che mi dice ripeto. Otto. Nove. Dieci. Uno. E due. E cambio abbraccio. E cambio abbraccio. Alla gamba destra. Vai. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Cavo abbraccio. Sette. Nove. Dieci. Uno. E due. Arrivati a questo punto. Prendete un po' di ciato. Come va? Mazza. Pazzesco. Va. Questa è un po' di latirale. Perché ragazzi, te le maniglie dell'amore. Ti vuole un po' di giuglie. Dove trascorrerete la Pasquetta? Non è una battuta. Non è una battuta mia, eh? Dove passerete la Pasquetta? Ma in casa. No. Vedi? Manchi di fantasia. Cioè? Sette abbiamo deciso di andare fuori dal balcone. Ok. Poi dopo, dopo pranzo, andiamo in camera nel salone. Andiamo a vedere la televisione. Ok. Poi dopo abbiamo pensato di fare una sorta di... Come si chiama? Quando hai pizza? Come si chiama Ibiza? Quando c'è il tramonto del sol, si fa la televisione. Ah, vuoi fare l'happy hour? Eh, non mi valeva a me. Faremo l'happy hour fuori a chi lì dal balcone. Ok. Facciamo un bel piafro. Poi facciamo cena e cucina. Ho capito. E' movimentato, no? A Pasquetta. Ma l'amore, l'amore no, l'amore. No, perché io anche a Pasquetta faccio l'amore. Ma infatti sempre, Nina, sempre. L'ho capito io. Che siamo, come si dice, a digiuno qua. Scusa. Scusami. Nina, ma che dici? Ma non ho capito. Ci hanno tolto da andare in giro a passeggio. Ci hanno tolto di andare al bar. Ci hanno tolto di andare all'estorato. Ci hanno tolto da mangiare la pizza. Nina, siamo in Pasquetta Protetta. Hai sentito la signora che sta connessa con una creatura in un mese? Ma un creaturo di un mese non sa cosa stiamo dicendo. Eh, non sta bene. Siamo in Pasquetta Protetta. Ma l'amore è amore. L'amore può essere per la natura. L'amore... Guarda. Guarda. L'amore può essere per il sole. Allora, visto che siamo cari, che abbiamo pensato già all'amore, e facciamo la seconda serie. Dai! Seconda serie, ragazzi. Braccio su. E vado. Uno. Due. Quattro. Tre. Quattro.